Banchieri, pizzicagnoli, notai, coi ventri obesi e le mani sudate, coi cuori a forma di salvadanai, noi che invochiam pietà, fumo traviato. Navigammo su fragili vascelli per affrontar del mondo la burrasta. Volevole Cassini, lei ha detto che entro a fine anno lascerà il partito per la leadership, è vero? Ma io non sono nel partito. Non è del PC lei? No, nel senso che io non sono segretario, il segretario di Cesi erano in carico, ho dato il capo, è quattro anni fa. Perché Totò Cuffaro deve essere in senato? Quante roba fa? Eh ma almeno una risposta. Scusi, almeno una risposta. Me lo dammi una risposta? Guardi, questa risposta l'ho data 500.000 volte. Cuffaro ha detto che si sarà condannato, si dimette, è stato al primo grado. Guardi, in Italia, non so da altre parti, c'è ancora il diritto ad avere i gradi di giudizio, che sono tre, non uno. Perché io le potrei fare un'infinita pletora di esempi di persone condannate che sono state assolte perché il fatto non sussiste. Per cui, per Cuffaro vale la presunzione di innocenza come per gli altri. E' stato sottoposto al giudizio degli elettori, sono stato martirizzato in tutta la campagna elettorale per questo. Dopodiché, francamente, vogliamo continuare a parlarne, io sono qui. Ma però c'è anche il buon signore, c'è anche il patriciello. Il buon signore sta nella PDL, patriciello sta nella PDL. No, è nell'Udc, patriciello. È nella PDL, si informi, lei non sa un tubo. È passato di là. Che me ne so. Ma anche Cesa non è che è un bel passato. Va, è nella PDL, basta, non mi rompo le scarpe. Ma lo stesso Umberto Cesa. Può addevitarmi tutte le... No, ma io le chiedo e basta. Ma le chiede, se lei è mal informato, dice le cose che sono falsitate. Scusi, no, però, Umberto Cesa che portava le tangenti all'ex ministro... Noi che danziamo nei vostri sogni ancora, siamo l'umano desolato greggio di chi morì con il nonno. Cufaro ha detto che si sarà condannato, si dimette. Quanti innocenti all'orrenda agonia votaste, decidendone la sorte. E quanto giusto pensate che sia una sentenza che decreta morti. Francamente vogliamo continuare a parlare, io sono qui. Ma però c'è anche il buon signore. C'è anche il patriciello. Il signore sta nella PDL, il patriciello sta nella PDL e vado a... No, no, è venuto a prendere. Si informi, lei non sa un tubo. È passato di là. Che bene so. Ma anche Cesa non è che è un bel passato. Va nella PDL, basta, non mi rocco le scarpe. No, no, se mi lì. Se lei è mal informato, mi dite le cose che sono quasi tante. Scusa, no, no. Uomini, cui pietà non conviene sempre, malaccettando il destino comune, andate, nelle sere di novembre, a spiar delle stelle al fioco lume, la morte e il vento. In mezzo ai camposanti, muoverle tombe e metterle vicine, come fossero tessere giganti di un domino che non avrà mai fine.